Quattro giorni per discutere ed approfondire i cambiamenti del linguaggio e della comunicazione politica. Il Partito Democratico abruzzese e quello molisano si sono dati appuntamento dal 24 al 27 settembre a Vasto e Termoli per la Festa Nazionale dell'Unità sulla Comunicazione, un evento che richiamerà esponenti politici ed intellettuali da tutta Italia tra cui il Ministro per la Pubblica Amministrazione Marianna Madia. Quali saranno i temi affrontati durante la manifestazione? Dal Data Journalism a tutto quello che è l'attualità della comunicazione che entra anche nella politica, penso a quello che stiamo affrontando in Parlamento e anche l'apertura della festa, questo è come noi comunichiamo con la Pubblica Amministrazione, quindi apriremo con la Ministra Madia. Poi ci sarà una Lectio Magistralis di Sergio Zavoli che è senatore, allora dalla Notte della Repubblica, suo celebre programma che ha cambiato, ha anche il nostro modo di raccontare la televisione al giorno della Repubblica, cioè quello che stiamo vivendo oggi a livello di riforme. Superare i campanilismi ed unire gli intenti e le intelligenze nel solco della macroregione adriatico-ionica è questa la motivazione che ha spinto le due direzioni regionali di Abruzzo e Molise ad unire le forze e a chiedere alla Segreteria Nazionale che la manifestazione si svolgesse al confine fra le due regioni. Perché noi riteniamo che ci sia una narrazione condivisa tra Abruzzo e Molise che poi è quella del medio adriatico e in un momento di cambiamento anche del nostro paese con queste politiche innovative che sono portate avanti dall'Europa che sono le direttrici dei finanziamenti europei, quindi la macroregione europea, adriatico-ionica, noi pensavamo che fosse bella questa proposta di unirci per cercare di attirare una festa nazionale. Ci siamo riusciti, ne siamo orgogliosi e ringraziamo il nazionale per aver scelto l'Abruzzo e il Molise.